ciao oggi inizia il mio vlog vi farò vedere cosa mi sono messa in valigia perché si parte per la sardegna auguri a tutte le ragazze basse perché oggi è la loro festa auguri rossella allora vediamo un po a parte mi sono messa tutto monocromatico perché purtroppo è così questi sono i miei panni un po un po tristi tutto nero 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 giusto questa oggi vi faccio vedere cosa mi porto mi porterò i pennelli della zoeva che adoro troppo bucciosi poi mi porto i fazzoletti questi struccanti della liscia poi mi porto la palette della zoeva mi porto i blush della make up revolution poi qua tutti i miei trucchi di un po che ciò l'eyeliner della mulac una matita non so di dove make up qualcosa poi illuminante della mulac i lipstick della chicco la tinta labbra della sephora l'eyeliner della wikon e la wikon c'ho il traduttore simultaneo poi il poor professional poi altre cose della chicco elf sephora wikon questo è della rimel questo è della pubblicare questo era tu face e poi questo è della mulac tu poi vabbè un siero della clinique la cipria della stay matte il fondotinta della maybelline maybelline perché sono italiani che si chiamano maybelline ma state zitta tu la matita della essence la matita per le sopracciglia della pupa un correttore della maybelline e questa terra della rouge questo si chiude così vabbè ok ho come l'impressione mi manca qualcosa poi qui c'ho la piastra io uso da anni questa della revlon poi c'ho uno spray della balea la pillola una spazzola una crema della ips rocher un bagno doccia della bourgeois l'attac deodorante della lady speak stick e un profumo della bella un mascara della vedi che cosa mi mancava là dentro il mascara della essence e poi qui i miei gioiellini questa è una collana qui c'è un braccialetto un braccialetto qua un altro questo è un braccialetto uguale si avvolge sulle mani sulle mani sul polso l'orologio mio della della chiesa della chiesa che cazzo è sto cazzo il cronato deficiente un anellino chiamamolo anellino poi è grosso gli orecchini della l'idea giallò miagini per l'opè poi qui c'ho il braccialetto ho questo bracciale della tifani anche questo poi questo braccialetto della bulgari Gli orecchini anche questi della Tiffany E questi orecchini così della cinese E poi niente partiremo stasera E arriveremo domani mattina a Olbia E niente lo vedremo Grazie a tutti